3, erivo che moltiplicazione? 24, 4, 10 10, 60 24, 10 10, 10, 10 ma facendo 24, 8 si así 2 4 4 2 0 2 0 2 4 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Es 0 Eso es 0 4 4 0 4 0 4 0 4 484 minuto 5 5 5 6 7 8 9 10 12 9 10 10 11 11 12 15 15 12 12 12